Continua la battaglia sulla legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali, sembra ora tutto fermo. Lei che cosa ne pensa di questa riforma proposta da Renzi e Berlusconi? Beh, una riforma per tagliar fuori la Lega. La Lega non è un partito nazionale, ma un partito autonomista identitario che logicamente prende i voti dove è presente, cioè al nord. Quindi o viene inserita una soglia territoriale, se no questa è una legge, come ha ripetuto il nostro segretario di stampo fascista che vuole tagliare fuori dal Parlamento un movimento che ha rappresentanze sopra il 30% anche in alcune zone del nostro territorio. Quindi o si trova una soluzione, se no la Lega, come sta facendo da sempre, farà una dura battaglia in aula.